Ciao a tutti ragazzi sono PetriRiper e bentornati in questo nuovo episodio della serie di Minecraft e quest'oggi ragazzi ci troviamo all'interno del centesimo episodio della nostra serie in sopravvivenza. Come vi avevo annunciato appunto negli scorsi episodi ragazzi, per questo speciale episodio, ovvero il centesimo episodio di tutta la serie, ho deciso che avrei fatto un world tour all'interno del quale vi avrei mostrato appunto tutti i passaggi della serie, quindi come si è evoluta con il passare del tempo. Cercando di mostrarvi in maniera abbastanza dettagliata ma non troppo nel dettaglio perché sennò altrimenti il video durerebbe veramente tantissimo, tutto ciò che è stato fatto e con che ragionamento è stato fatto. Tuttavia ragazzi anche se in questo preciso istante siamo nel mondo della serie non ci troviamo ancora nel punto adatto, dire il vero magari non nel luogo adatto, quindi ragazzi aspettate un secondo che ci ritroveremo subito dove tutto è iniziato. Infatti ragazzi rieccoci in un luogo che ad alcuni di voi sarà familiare, infatti ragazzi ci troviamo sullo spawn, all'alba dello spawn del vecchio mondo della serie. Infatti la serie si è sviluppata per la maggior parte del tempo fino circa all'episodio 60-70 per farvi capire all'interno di questo mondo e poi visto che si è rivelato abbastanza vecchio e quindi diciamo abbastanza monotono con quello che c'era al suo interno abbiamo deciso di cambiare e andare nel mondo in cui ci troviamo quest'oggi. Per farla in breve dopo che siamo spawnati in questo mondo ci siamo ritrovati su quell'isoletta dalla quale mi sono spostato subito qua per poter costruire un piccolo rifugio davanti a questa zona abbastanza rocciosa. Il mio primo rifugio è stata una casa molto semplice all'interno di una caverna all'interno della quale mi ero fatto praticamente un piccolo letto, avevo chiuso la zona qua dietro che se non mi sbaglio proseguiva per un pochino di tempo e avevo messo qua all'interno delle zucche che avevo trovato in giro per poi potermene portare due una volta che avrei trovato la base ufficiale. Come potete vedere qua dentro c'è ancora il letto, c'era anche una volta il mio vecchio cane che poi mi sono recuperato in uno dei vecchi episodi quando ancora ero all'interno di questo mondo. Ma comunque proseguendo, lasciando questa zona qua dove ho costruito il mio primo rifugio e proseguendo qua dietro si può notare la mia prima e vera propria casa all'interno della quale sono stato per un po' che è una casa che segue lo stile survival home. Infatti ragazzi proseguendo in questa direzione come la maggior parte di voi vedrà noterà che c'è una casa che dispone di una torre abbastanza grossa. Questo tipo di case è una struttura molto famosa soprattutto agli inizi del gioco dove la maggior parte delle case si basava a non avere una struttura vera e propria bensì ha un insieme di log di legna messi più che altro per dare una forma casuale alla casa la quale poi sarebbe stata costruita intorno alla forma decisa dal giocatore. È un tipo di casa molto bello da vedere all'interno anche se esteticamente all'esterno è un pochino strano soprattutto perché non rappresentano avere propria casa come si potrebbe venire nella vita reale ma dall'interno è molto comodo soprattutto per i vari giocatori che possono sfruttare al meglio lo spazio che essi stessi vanno a creare. Infatti ragazzi come potete vedere anche se la casa non è bellissima vista esteticamente da fuori offre veramente tantissimo spazio all'interno del quale il giocatore può muoversi ed è per questo che avevo costruito una casa di questo genere. Inoltre la casa è stata costruita come potete vedere interamente di legno di quercia con pavimento di legno di abete e di legno di bettulla ma devo dire che mi mette veramente tantissima nostalgia a tornare all'interno di questa zona. Inoltre qua di fronte come ero fatto un piccolo porto per il semplice fatto che spaccavo le barche soprattutto considerato il fatto che eravamo ancora nell'aggiornamento in cui le barche si rompevano molto molto più facilmente e di qua c'è stato poi il mio sbarco per poter espandermi il mondo viaggiando un pochino di più per il resto della zona. Proseguendo lungo la stradina che c'è davanti a casa praticamente come potete vedere qua c'è un progetto che non ho continuato per il semplice fatto che doveva essere la vecchia casa del pescatore ma poi mi sono spostato e qua c'era un ponte semplicissimo per collegare semplicemente queste due zone che avrei considerato come zona principale per la costruzione diciamo della serie stessa che poi in realtà ho cambiato visto che avevo trovato un Mesa Bayon che mi mostrerò tra pochissimo in quale si è rivelato essere vicino a una zona perfetta per la costruzione. Partendo infatti da questo porto tra virgolette secondario ragazzi ho cominciato la mia esplorazione per cercare una nuova zona dove costruire visto che questa qua non mi piaceva tantissimo ho visto i vari dislivelli che erano vicini l'uno all'altro. Proseguendo quindi di qua ho subito notato il Mesa Bayon che c'era esattamente qua di fianco il quale mi sono messo a guardarlo per un pochino scoprendo che poi davanti al Mesa Bayon ci sarebbe stata l'isola all'interno della quale avremmo sviluppato la maggior parte della serie che vedrete tra poco. Inoltre come potete vedere lì mi ero fatto una brutta casupola se così si può dire per indicare che lì appunto c'era la fortezza del land la quale poi abbiamo esplorato tempo fa e la quale avevo intenzione di colonizzare ma si è rivelata anche questa abbastanza buggata e quindi ho deciso di lasciar stare. Inoltre ragazzi ci tenevo a dirvi una cosa che mi sono dimenticato di dirvi ovvero che vi mostrerò le costruzioni in ordine più che altro spaziale e non temporale quindi le cose non ve le mostrerò in ordine cronologico a seconda di come sono state costruite bensì ve le mostrerò a seconda di come me le trovo davanti. Ma comunque ragazzi come potete vedere proseguendo in questa direzione ovvero dove c'è il Mezabion potete già notare alcune delle costruzioni in lontananza che si rivelano essere le costruzioni principali della mia vecchia serie. Siamo praticamente arrivati e come potete vedere qua davanti ragazzi c'è la spiaggia. Inoltre ragazzi qua all'interno di questa serie o peraltro in questa parte del mondo avevo costruito la mia prima casa basandomi su un design che adesso mi mostrerò di un vecchio youtuber che seguivo io e il quale mi ha messo anche buona voglia di cominciare a giocare a Minecraft e questo youtuber ragazzi è un youtuber che poi ha chiuso il canale che si chiamava DigiBuilder per poi aprirlo con un nome che al momento non mi ricordo ma che mi sembra di aver detto un pochino di tempo fa. La casa comunque è questa qua e lo youtuber appunto si chiamava DigiBuilder come vi ho appena detto e avevo fatto l'intero tutorial di questa casa che durava se non mi sbaglio una roba come 4-5 ore di video per poi scoprire che non avevo attivato il microfono per tutto, tutto, tutto il video e quindi ho dovuto rimuoverlo e adesso purtroppo avendo cambiato playstation non ho più il file del video altrimenti ve lo avrei caricato. Alcuni di voi, se non mi sbaglio una trentina di persone ai tempi quando avevo ancora 200 iscritti avevano visto il video e si erano lamentati il fatto innanzitutto della lunghezza perché il video era veramente veramente lungo ma poi seconda roba del fatto che non ci fosse il microfono e non me ne sono reso conto per il semplice fatto che quei tempi erano i tempi in cui editavo i video semplicemente attaccando le clip l'uno all'altro senza preoccuparmi dell'audio di cose di questo tipo quindi diciamo che ho fatto un fail abbastanza brutto. Comunque all'interno della casa ragazzi era l'esatta identica copia della casa di The G Builder questa qua è stata l'unica costruzione che ho praticamente copiato il resto sono sempre stati tutti i progetti miei che sono andato a costruirmi da solo ma questa casa è l'esatta identica copia della casa di questo youtuber che era il mio youtuber preferito e che poi purtroppo ha chiuso il canale non mi ricordo per quali motivi ma se non mi sbaglio per studi che ha dovuto affrontare all'università. Tuttavia ragazzi come potete vedere qua fuori oltre appunto alla casa abbiamo costruito una stalla che è stata una delle costruzioni sulle quali ci avevo buttato un pochino più di tempo in quanto in un episodio volevo più che altro cercare di progettarla al momento ma poi mi sono messo a progettarla off camera e direi che è venuta molto molto meglio del design che avevo in mente inizialmente. Come potete vedere la stalla è stata costruita con un design rustico è molto meglio mi parere della stalla che abbiamo adesso all'interno della nuova serie ma tuttavia non volevo ricopiarla in quanto altrimenti non sarebbe stata originale come Rova. Tuttavia la nostra stalla ho intenzione di applicare qualche modifica in futuro aggiungendo magari un silo e delle cose che mi avete consigliato voi nei commenti quindi diciamo che per quello lì ci sarà ancora tempo. Inoltre qua di fianco ragazzi come potete vedere ci sono una sorta di porto se così si può chiamare una sorta di piazzale sull'acqua dove ho costruito la casa del pescatore che è una casa molto semplice all'interno di questa zona dove ho costruito appunto dove di qua c'è uno spazzo per pescare ho intenzione di fare la casa del pescatore anche nella nuova serie per chiunque se lo stia chiedendo ve la porterò un po' in futuro e da questa parte invece c'è la zona del porto una zona di vero molto semplice dove come potete vedere ci sono già due barche che avevo lasciato nei precedenti episodi in cui sono andato a fare esplorazione marittima e più che altro per andare a esplorare il mondo in giro proseguendo invece nella zona principale della serie più che altro come potete vedere dietro alla mia vecchia casa la casa di The G Builder più che altro c'era una zona a mercato e qua cominciai subito ad abbozzare il primo progetto della stanza più che altro della casa degli iscritti infatti anche lì nella vecchia serie mi facevo consigliare alcuni dei vostri progetti e poi li andavo a costruire all'interno della serie come potete vedere qua c'è Flavio Beccari che è stato uno dei miei primi iscritti a consigliarmi di fare un mercato qua dietro alla mia casa ed è per questo che lo feci tra l'altro qua giù c'era il vecchio progetto della casa degli iscritti dove ancora ai tempi potevo gestire coloro che mi chiedevano di essere aggiunti adesso diciamo che siete diventati veramente moltissimi ed è per questo che ultimamente ho cominciato a far fatica ad aggiungervi tutti nella baccheca degli iscritti ed è per questo che non ho più potuto continuare la cosa mi è dispiaciuta tanto ma se non altro cerco comunque di rispondere ai commenti che mi sembra una cosa più che giusta visto che appunto mi sopportate comunque ragazzi giusto per dirvelo a breve non riuscirò nemmeno più a rispondere ai commenti non perché non li leggo e perché non voglio ma per il semplice fatto che siete veramente tantissimi e sto cominciando appunto a far fatica a rispondere non perché appunto non voglio ma per il semplice fatto che potete provare voi a mettervi nei miei panni rispondere a 300 commenti in 5 minuti non è una cosa semplice comunque qua giù c'è il semi interrato inoltre che assume molto la struttura più che altro di una fognatura utilizzata nello stile non mi ricordo se è lo stile rustico ma di solito questo tipo di struttura per i piani inferiori si utilizza nello stile rustico per appunto fare questi tipi di piani soprattutto nelle fognature e qua c'era la mia vecchia stanza del nether ora nel nether non abbiamo costruito molto se non un rifugio molto brutto quindi non ve lo mostrerò nemmeno e non so per quale motivo manca un blocco d'ossidiana ma fa nulla proseguendo qua dietro inoltre come potete vedere c'è una casa sull'albero ragazzi questo credo che sia il mio progetto peggiore di tutti infatti non l'avevo progettato benissimo e come potete vedere l'albero che mi sono craftato artificialmente è venuto poi uno schifo infatti è venuto praticamente molto tozzo verso la zona bassa sembra quasi a dire vero una rapa con delle foglie in alto dove ci ho costruito una casa e doveva essere il progetto di una casa sull'albero che poi non ho nemmeno completato in quanto come potete vedere qua c'è ancora della terra per le parti che servivano a costruire l'albero intero ci ho messo tra l'altro tantissimo a farlo quindi mi è dispiaciuto non farlo benissimo ma comunque qua all'interno c'è una casa che come potete vedere risulta abbastanza moderna per l'utilizzo delle stanze ma è stata fatta con dei materiali di vero molto semplici e purtroppo non è venuto un progetto tanto bello quanto mi aspettavo il che mi è dispiaciuto moltissimo ma se non altro poi abbiamo recuperato con il resto delle strutture fatte all'interno della serie e grazie anche ai vostri consigli qua di fianco ad esempio esattamente dietro al mercato ci si trova il mio rifugio sotterraneo questo rifugio è stato costruito principalmente in live oltre alla parte qua più che altro dove mi sono costruito la scalinata interna e me lo avevate consigliato in veramente tanti il rifugio comunque è molto piccolo si basa su due semplici stanzette annessi l'una all'altra con degli armadietti delle zone per le fornaci dei letti e una zona libreria semplicemente per decorare con qua giù una discesa dire vero molto rapida per accedere alle miniere e cercare quindi dei diamanti nella speranza di trovarne ne ho trovati un po' non tantissimi tuttavia tramite questo metodo ed è una delle costruzioni che ho utilizzato il meno all'interno della serie il che mi dispiace perché ci avevo buttato via un po' di tempo ma comunque mi piace veramente tantissimo come design non so perché la ritengo molto semplice ma lo stesso molto bella anche da vedere all'interno e quindi quella lì anche se è stata fatta in live un pochino improvvisata risulta una delle mie strutture preferite al momento qua di fianco parlando sempre di strutture che ci portano un pochino in profondità c'è la vecchia struttura della ferrovia automatica ora non so se funziona ancora visto che la redstone ha cambiato il comportamento con il passare del tempo ma praticamente come funzionava scegliendo uno di questi bottoni si poteva scegliere una propria fermata per esempio in questo caso come potete vedere c'è scritto 1 mesa reset per indicare che nel caso in cui avessi schiacciato questo bottone la ferrovia mi avrebbe portato nel mesa biome dove infatti c'è un tunnel sotterraneo che mi porta fin lì oppure per resettare le intere stazioni infatti nel caso in cui e poi nel caso in cui avessi voluto cambiare la stazione decidendo la stazione 1 avrei potuto tranquillamente premere la stazione 1 per resettare tutta la stazione stessa vedo soprattutto che comunque il comportamento è cambiato in quanto adesso la lampada si accende dopo un bel po' ma per mostrarvi praticamente se adesso mi metto qua all'interno e faccio attivare tutta la rotaia come potete vedere andrò nel binario 3 che è esattamente quello lì per poi fare un passaggio da binario 2 nella stazione di ritorno il quale servirebbe tecnicamente per ordinare al meglio il viaggio di ritorno e questo funziona praticamente per tutte inoltre poi il minecart si distrugge automaticamente per farlo ritornare bisogna premere qua e qua di fianco ragazzi come potete vedere siamo praticamente anche in periodo c'è l'albero di natale l'albero di natale è una delle ultime costruzioni che ho fatto appunto festive per la serie e l'ho costruito appunto a natale dell'anno scorso quindi diciamo che è passato praticamente un anno rispetto all'episodio dell'albero di natale qua intorno c'era anche della neve per festeggiare appunto il periodo natalizio ho intenzione di fare qualche altra costruzione dedicata al natale nel nuovo mondo ho già in mente cosa fare quindi vi ringrazio per i consigli ma ho già in mente cosa fare appunto e l'albero come potete vedere era anche decorato con dei blocchi di minerali per il semplice fatto che mi piaceva aggiungere il colore io come sapete non tengo molto ai minerali come valore per quello che possono fare ci tengo molto più che altro dal valore estetico visto che sono un builder poi ovviamente se ne ho pochi cerco di tenermeli per sopravvivere più che altro e qua di fianco più che altro davanti alla nostra casa principale copietata DG Builder c'era la zona del magazzino bar è stata una delle strutture più strane che abbiamo mai fatto tra l'altro anche questa improvvisata principalmente con qua giù una zona dedicata al bar principalmente con come potete vedere un mini frigo delle fornaci e una cassa lì dentro con la parte superiore dedicata appunto a un magazzino anche questo qua è stato un magazzino che non ho mai utilizzato non per il semplice fatto non per altro ma per il semplice fatto che non mi piace tantissimo avere dei magazzini come strutture esterne ed è per questo che sto aspettando di farne uno all'interno della serie e mi sto tenendo il magazzino nella casa semplicemente per il fatto che mi trovo comodo ad avere un magazzino di fianco che mi permetta di accedere alle mie risorse quando voglio di fianco al magazzino invece c'è la struttura della casa degli incantesimi è una struttura molto semplice ragazzi lo so ma ho deciso di tenere questo design anche all'interno della vecchia serie per il semplice fatto che questo qua è lo stesso identico design della mia prima casa degli incantesimi fatta su minecraft l'avevo costruita insieme a un mio amico insieme a una persona speciale che al momento non me la sento di nominare ma tuttavia appunto è stato il mio primo design della casa degli incantesimi e ho deciso di tenerlo così per il semplice fatto che era un fattore puramente nostalgico è molto semplice lo so tra l'altro è stato fatto con blocchi di costruzione molto anche quelli lì molto comuni molto semplici da vedere nelle costruzioni ma comunque mi è piaciuta tantissimo e di qua ragazzi invece c'è una delle prime farm se non la prima fatta all'interno della serie ovvero la farm di galline funziona in maniera abbastanza diversa rispetto a quella che abbiamo adesso non so nemmeno se funzionava in più ma comunque funzionava basandosi su questo metodo i quali poi vengono messe in un dropper il quale mi permette di poter premere questo bottone per far spawnare uova continuamente in maniera tale che poi qua all'interno spawnino dei pulcini i pulcini una volta che saranno qua all'interno cresceranno per conto loro e premendo questo bottone qua uscirà della lava che mi cuocerà le galline ormai cresciute per darmi della carne che come potete vedere funziona a dire vero abbastanza bene ora non stanno spawnando pulcini ma fa nulla e praticamente la farm non era automatica cosa che è diversa dalla farm che abbiamo adesso all'interno della serie in quanto quella lì è completamente automatica dietro la zona della farm di polli c'è un'idea consigliata da Igor Morbini ed era un'idea praticamente di un parchetto molto semplice come potete vedere infatti c'è un'altalena questa qua si lo so dovrebbe essere un'altalena anche se non ci assomiglia delle panchine una piccola cascata che in realtà dovrebbe essere tipo un laghetto zen ma quello lì l'abbiamo fatto poi dopo e ve lo mostrerò con annesso l'idea di The Gamer ovvero una sorta di parchetto con una zona molto piccola dedicata alle festività qua all'interno ci sono come potete vedere la zucca di Halloween la neve di Natale praticamente e non mi ricordo per cosa avevo messo i cactus ma se non mi sbaglio per carnevale non chiedetemi cosa mi frullavo e bevevo la mattina perché non me lo ricordo nemmeno io ma non so per quale sarà motivo pensavo che i cactus fossero legati al carnevale tuttavia qua di fianco al parchetto come potete vedere c'è il mulino a vento che è stato modificato con il passare del tempo all'interno della serie infatti una volta aveva le pale girate da questa parte e dopodiché le pale sono state girate da quest'altra rivolgendosi più che altro verso il mare in quanto c'era la farm di ferro a fare ostruzione la quale vi mostrerò tra l'altro dopo il mulino come potete vedere è molto semplice all'interno non c'è nulla di speciale è semplicemente un mulino con un torchio qua centrale che è collegato alle pale in maniera tale che abbia tra virgolette un funzionamento dimostrativo e più che altro è un mulino molto molto semplice con annesso un letto nel caso in cui avessi voluto dormire qua dentro e la farm di ferro è una delle costruzioni che non ho mai decorato esteticamente per il semplice fatto che non ne ho ritenuto il bisogno anche se non è bellissima da vedere ma comunque si basa su un design di farm di ferro molto semplice che sfrutta praticamente dei villageri messi qua dietro i quali mi ricordo avevo fatto una fatica bestiale per metterli dentro tramite l'utilizzo delle rotaie e dei minecart ma comunque funziona e greggiamento o meglio funzionava adesso non so se funziona ancora ma mi forniva veramente grandissime quantità di ferro e nel caso in cui dovessi fare una nuova farm all'interno della serie replicherò lo stesso identico design che abbiamo utilizzato per questo vecchio mondo e dietro al munino molto vicino alla farm di ferro c'è la vecchia casa degli iscritti una casa basata su uno stile misto tra il medievale e il moderno che non mi ricordo per quale motivo avevo fatto così ma comunque comprendeva qua dentro il libro degli iscritti che appunto proseguiva praticamente il progetto della stanza come potete vedere qua dentro infatti c'erano tutti coloro che si iscrivevano al canale e poi mi chiedevano di essere aggiunti purtroppo con il passare del tempo questa funzione è diventata praticamente impossibile per me da fare in quanto c'erano circa 500 persone che mi chiedevano di essere aggiunte a episodio e visto che stava praticamente diventando molto lunga e molto difficile come cosa ho dovuto purtroppo interrompere il progetto come vi ho detto appunto prima comunque qua all'interno ci sono scritti tutti coloro che mi hanno chiesto fino a quando ho continuato con il progetto di essere aggiunti e ho cercato di fare del mio meglio per rispettare comunque coloro che me l'hanno chiesto dopo e i quali ho dovuto dire che il progetto era stato chiuso quindi vi chiedo scusa se non vi siete stati aggiunti ragazzi per coloro che appunto me lo chiesero ma cercate di mettervi nei miei panni aggiungere 200 persone per poi farle vedere in un video praticamente 5 minuti del video erano dedicati soltanto a questo cominciava a diventare stancante considerando che poi la cosa diventò esponenziale a poco comunque per non rimanere troppo tempo qua adesso farò vedere velocemente le pagine del libro così che possa essere comunque piacevole la cosa PS mi sono dimenticato di dirvi che il video sarà molto lungo quindi abbiate pazienza perché comunque voglio mostrare come si è sviluppata la serie inoltre qua inizialmente c'era un progetto dove dovevo mettere i traguardi raggiunti sul canale poi la cosa onestamente non mi è piaciuta in quanto non mi sono mai imposto dei traguardi numerici io quindi ho deciso di lasciar stare il mio traguardo lo principale era quello di intrattenere delle persone sperando che quello che io faccia possa piacere e me lo state dimostrando con tutto il vostro supporto quindi ragazzi vi ringrazio veramente tantissimo per ciò comunque come potete vedere di qua c'è una zona con dei ponti che mi collega a uno spiazzo dove ho costruito interamente la zona è una zona dove appunto ci sono delle costruzioni con lo stesso stile ma prima di andare verso di là voglio mostrarvi principalmente quello che è stato costruito sopra questa collina e qua sopra mi ricordo che una ragazza di nome 3B se non mi sbaglio 3B non mi ricordo benissimo ma comunque adesso guardiamo mi aveva consigliato il giardino zen sì 3B il giardino zen consisteva praticamente di alcuni alberi di ciliegio che ho fatto utilizzando la lana rosa invece che le foglie normali con un laghetto con del bambù praticamente ai contorni dell'acqua e una piccola cascatella così che ricordasse appunto un giardino zen vero e proprio qua avevo fatto anche uno dei miei primi tentativi a costruire con lo stile Shaolin ovvero uno stile orientale tuttavia non ho mai costruito con questo tipo di stile ed è venuto fuori qualcosa di veramente strano che nonostante ciò comunque offriva una buona visale sul tutto il mondo da questo punto di vista e qua dietro invece ragazzi ci sono alcuni dei progetti che abbiamo utilizzato più spesso all'interno della serie qua come potete vedere c'è la torre dell'Elytra la quale non mi sembra di aver mostrato tantissimo nei video ma l'ho utilizzata veramente tanto off camera ed era una costruzione che sfruttava ai tempi un lanciatore dell'Elytra che ora purtroppo non funziona più per appunto utilizzare l'Elytra e guadagnare dello slancio con il quale poter andare molto in alto infatti ragazzi ai tempi della serie non si poteva ancora utilizzare i razzi per poter volare e cercai per tantissimo tempo di ottenere un arco con pugno 2 per poter continuare a volare all'infinito la cosa poi si è rivelata inutile visto che subito dopo che ho trovato l'arco sono stati aggiunti i razzi per poter volare la cosa è stata un pochino deludente da quel punto di vista ma almeno hanno migliorato un aspetto del gioco generale per tutti inoltre qua come potete vedere ci sono una serie di casette che vi mostrerò in ordine per grandezza questa qua è una casetta in montagna che ho mostrato in uno dei miei primi video sul come costruire bene delle strutture simili a casette molto semplici è una struttura di una casetta che poi è diventata molto popolare e se non mi sbaglio ha cominciato a diventare anche famosa su YouTube America anche se il video se non mi sbaglio non ha tantissime visualizzazioni ed è uno dei miei design dei quali vado più fero per il semplice fatto che a molti è piaciuta nonostante la sua semplicità proseguendo di qua invece c'è una casa che come potete vedere si stacca da tutte le altre per lo stile che ha infatti risulta molto moderna comunque con uno stile completamente diverso dalle altre e questa qua ragazzi è la replica della casa di Link di Legend of Zelda Breath of the Wild per chiunque non lo sapesse sono un grandissimo fan di tutta la saga di The Legend of Zelda e vedendo la casa che hanno dato nel nuovo titolo uscito per Nintendo Switch e Nintendo Wii U nel 2017 ho deciso di costruire questa simile replica della casa stessa che come potete vedere è venuta a avere un pochino diversa ma comunque ho cercato di costruirla basandomi sulla casa vera e propria inoltre qua ci sono delle piccole stenzette che nella vera casa non c'è ma comunque c'erano degli spazi tra i blocchi d'ossa che ho messo tantissimo a farmare i tempi della serie per poter fare la casa vera e propria quindi anche questa qua è una struttura della quale vado molto fiero in quanto essendo grande amante della serie e quindi grande amante anche della casa mi sembra di averla replicata comunque decentemente viste le limitazioni di Minecraft inoltre qua di fianco c'è una piccola zona dove poter tenere il cavallo che esiste anche all'interno del gioco vero e proprio da questa parte invece c'è la mia seconda casa ovvero quella che ho utilizzato per tutta la serie poi ci sono anche altre case le quali non sono state utilizzate molto all'interno della serie ma sono state costruite per decorazione e questa qua era una casa sul dirupo è ancora una casa sul dirupo ma adesso semplicemente non ce l'ho più all'interno del mondo la casa ha una struttura molto bizzarra che è stata costruita praticamente unendo varie case inizialmente infatti ragazzi questa casa doveva essere un insieme di case costruite dovevano essere su un intero dirupo non su un intero villaggio ma vedendo poi appunto il modo in cui le case si potevano collegare tra di loro deciso di fare un'unica mega casa cercando appunto di collegare tutte le vecchie strutture precedenti infatti come potete vedere ci sono delle strutture a tetto spiovente che sporgono rispetto agli altri lati per il semplice fatto che dovevano essere delle case singole con delle stanze veramente molto piccole ho poi deciso di unire il tutto facendo anche questo piccolo balconcino per poter costruire e l'idea del balconcino ve lo dico onestamente è stata copiata da uno youtuber che seguo che si chiama Itoslab ho scritto Etoslab con la H dopo T A dopo la T praticamente è uno youtuber che seguo ancora anche se di rado per il semplice fatto che ultimamente sto avendo poco tempo per guardare video su youtube ma comunque mi sto divertendo mi è piaciuto tantissimo costruire questa casa basandomi appunto sullo stile di Etoslab per quanto riguarda il balconcino il resto del suo stile è completamente diverso da mio ma l'idea del balconcino mi sembra davvero davvero molto bella ed è per questo che ho deciso di replicarla all'interno di questa casa che poteva sfruttare molto molto bene quel tipo di costruzione la casa comunque risulta molto confusa e molto stretta per questo esatto motivo a me onestamente piacciono le case strette e confuse quindi non ho problemi ma comunque risulta così per il semplice fatto che inizialmente doveva essere l'insieme di varie case poi ovviamente essendo cambiato il progetto è cambiata anche la struttura della casa in generale e quindi sono cambiate molto molto le cose come potete vedere comunque di qua la zona è più ampia per il semplice fatto che qua dentro c'era una caverna che ho sfruttato per costruire il resto della casa dove qua c'è la zona del magazzino all'interno della quale avevo depositato tutta la mia roba e dove qua dentro se non mi sbaglio ci dovrebbero anche essere no e giù le litre con a dire il vero anche un murales per la mappa e ragazzi sta roba qua se ve lo chiedete si fa semplicemente mettendo la mappa dentro un icon frame molto semplicemente come potete vedere la mappa poi si ingrandirà all'interno dell'icon frame rendendolo più grande e quindi facendo una mappa a muro comunque qua come potete vedere ci sono le litre che ho depositato nella parte inferiore del seminterrato la quale era principalmente dedicata alle farm con qua all'interno una farm di mucche della quale poi si può vedere il meccanismo anche dopo e anche queste sono state tutte idee consigliate da voi poi nella casa degli iscritti avevo messo come per la nuova casa degli iscritti dei cartelli con scritto chi mi aveva consigliato delle varie idee e il progetto è continuato così praticamente da questa parte c'è una farm di grano che purtroppo adesso non credo sia più funzionante infatti come potete sentire non si sente più il minecart muoversi comunque ai tempi forniva grano a dirvi il vero molto molto bene sfruttava un villager contadino per muovere la farm stessa proseguendo invece in questa direzione c'è un piccolo ascensore sfruttando dell'acqua e un piccolo ascensore sfruttando il minecart come è fatto all'interno della nuova serie per poter andare su e giù molto rapidamente ma comunque qua giù ci sono altri sistemi di pietra rossa utilizzati per andare all'interno della serie avanti qua come potete vedere c'è un sistema di mega fornace con intenzione di fare all'interno anche della nuova serie infatti qua all'interno se si deposita un oggetto che può essere cotto e qua di fianco si deposita un oggetto che può appunto fornire cottura e poi mandando entrambi i minecart avanti si avrà la possibilità di poter ok qua i minecart vanno avanti perché sono buggati devo spegnere si potrà appunto vedere che qua all'interno gli oggetti vengono cotti senza alcun problema potendo fornire anche del cibo cotto come potrete vedere che arriverà tra pochissimo all'interno di questa cassa esattamente così comunque piccolo acca parentesi se comincio a parlare male per il semplice fatto che mi si sta impassando la bocca a furia di parlare ma essendo un video molto lungo purtroppo dovrò ottenere un pochino la pazienza di qua invece c'è una farm di zucche e di meloni sfrutta semplicemente dei pistoni per distruggere le zucche e meloni che come potete vedere vengono farmati automaticamente sfruttando un block update che rileva quando un blocco viene posizionato davanti un altro attivando così i pistoni che distruggeranno i meloni barra le zucche barra le anguri io li chiamo meloni per il semplice fatto che in inglese i meloni sono chiamati melons anche se so che in realtà è water melon e sono le anguri comunque cercate di capirmi e di qua comunque c'è una farm di canne da zucche che sfrutta esattamente lo stesso identico meccanismo ovvero un rilevatore di blocchi che ai tempi non si poteva fare sfruttando l'observer block in quanto ancora non esisteva che quindi si costruiva utilizzando un meccanismo a dire vero un po' complicato da spiegare a voce di qua c'è la casa del forileggia che è un'idea che avevo costruito in live principalmente se non mi sbaglio costruendo lo scheletro off camera e praticamente è una casa che avevo costruito molto semplicemente basandomi su una struttura diroccata che poi grazie ai vostri consigli ho migliorato aggiungendo dei piccoli dettagli come un albero all'interno della struttura delle liane e delle mura spaccate come potete vedere parlando invece di queste strutture qua sono le strutture che si sono viste essere progettate ma non concluse all'interno della serie verso la fine questa qua doveva essere una basilica la quale non ho più mai completato visto che non me la sono mai cavata con l'incostruire chiese e non me la sono mai cavata con l'incostruire basilica ed è per questo che sto aspettando di farne una all'interno della serie non essendo ancora in grado di costruirne mi sto allenando comunque in un mondo in creativa fatto apposta ma ancora non sono in grado di ottenere ottimi risultati e alcuni di voi potrebbero aver già riconosciuto quel vecchio design della casa infatti ragazzi quello lì era il vecchio progetto dello scheletro della prima casa che abbiamo costruito nella nuova serie che è sempre a dire vero la stessa serie ma in un mondo diverso e questo qua era il progetto principale in quanto inizialmente la casa doveva essere costruita all'interno di questo mondo sono andato avanti costruendo semplicemente lo scheletro per poi abbandonarlo decidendo poi quindi di continuare la serie in un nuovo mondo e davanti praticamente a questo vecchio progetto che poi avete visto nella nuova serie come potete vedere c'è il munino d'acqua a dire il vero cosa sta succedendo le litra sono baggatissime lo so ma fa niente comunque vi sto appunto dicendo qua c'è il munino d'acqua che è una struttura molto piccola e molto semplice allo stesso tempo sono tuttavia comunque abbastanza contento di averla costruita anche se è stato uno di quei periodi in cui la playstation non registrava dopo il nuovo aggiornamento lo utilizzavo comunque anche come casa per pescare qua dove cercavo il libro corramendo che poi ho trovato in un dungeon se non mi sbaglio tempo dopo ma comunque la casetta è molto semplice aveva su più piani ma i piani superiori non hanno praticamente nulla al loro interno ed era una casa che utilizzavo principalmente per decorazione di questa nuova zona e che utilizzavo principalmente per appunto pescare comunque ragazzi prima di mostrarvi il resto del mondo voglio mostrarvi un attimino la mia replica della mia casa nella vita reale ci ho messo un bel po' a farmare la terracotta che ho poi utilizzato per fare tutta la mia replica della casa la quale tra l'altro ho subito delle modifiche negli ultimi anni alla struttura stessa quindi non sarà uguale come la vedrete adesso ma comunque principalmente questo qua è il salotto che aveva un muro qua che è stato rimosso con poi con gli ultimi lavori fatti all'interno della casa e ha subito tra l'altro delle modifiche il salotto stesso infatti questo armadio adesso non è più qua bensì è di qua e dietro questo muro c'era la stanza dove giocavo dove renderizzavo io i video infatti questa qua doveva essere una replica della mia playstation per chiunque non lo sapesse infatti lavoravo in questa stanza della sala che poi è stata rimossa è unita con il salotto vero e proprio dove adesso c'è un tavolo enorme che è il tavolo da pranzo barra da cena per quando ci sono ospiti mentre da questa parte c'è la cucina che è molto più piccola di quella che è nella mia vita reale però su minecraft ci sono delle limitazioni mentre di qua c'è un corridoio che mi conduce alle varie stanze questa qua è una replica della vecchia camera di mia sorella che è stata poi modificata con il passare del tempo dove c'è ancora il balconcino tuttavia adesso è molto molto più moderna e di qua era il periodo in cui stavamo rifacendo i bagni quindi i bagni non sono completi ma comunque questo qua quindi qua il mio vecchio bagnetto che adesso è molto molto migliorato e questa qua era la camera di mia mamma questa qua era la camera di mia mamma è ancora identica non ha subito cambiamenti con il passare del tempo ovviamente ci viveva anche mio papà fino a quando c'era no non voglio dormire inutile che mi decidi you may not rest now ma comunque il televisore è sempre stato in questa posizione camera di mia mamma è l'unica che non è cambiata col passare del tempo mentre in questo preciso istante sto ancora rifacendo camera mia quindi adesso camera mia è completamente diversa da quella che è in questo preciso istante di qua ci dovrebbe essere una replica del pianoforte che ai tempi non sapevo costruire ma che adesso so far meglio che ho intenzione di rifare magari all'interno della serie ma comunque nel momento in cui la mia camera sarà rifatta che stiamo rifacendo adesso vi mostrerò e vi cercherò di spiegare al meglio come è camera mia detto in breve praticamente per mostrarvi comunque il funzionamento della torre dell'Eritra e proseguire all'interno dell'esplorazione del mondo voglio appunto mostrarvi come funzionava la vecchia torre dell'Eritra ovvero questa qua come potete vedere ragazzi qua sopra c'era un insieme di barche messe qua davanti a questo blocco che anche se non sembra nel momento in cui ci si butta dentro spingerà via il giocatore e per attivare questo lanciatore dell'Eritra bisognava semplicemente lanciarsi qua dentro e attivare l'Eritra dopodiché andare contro le barche che come potete vedere spingeranno il giocatore molto molto più in là era una tecnica che utilizzavo per viaggiare per andare nei luoghi più lontani del mondo ma che come potete vedere adesso sto semplicemente utilizzando per mostrarvi come è andata avanti all'interno della serie comunque per proseguire in ordine più in ordine possibile di qua c'è l'armeria la quale vi mostrerò adesso molto meglio un tubo ebbene ragazzi rieccoci all'interno dell'armeria una struttura molto semplice come potete vedere con delle piccole decorazioni messe ai lati della lava semplicemente per fare oltre che illuminazione altra decorazione in più all'interno di questa struttura dove qua all'interno c'è un armostand che occupava praticamente lo spazio della mia armatura che è poi stata distrutta insieme alla spada durante la battaglia con il Wither e non c'è nulla a dire semplicemente mi ha richiesto un pochino di tempo per distruggere la stanza qua dentro considerato che c'era molta ghiaia ai tempi e quindi diciamo che mi ha richiesto un pochino di tempo da quel punto di vista comunque proseguendo in questa direzione ovvero dove c'è questo insieme di ponteggiatura se così si può dire non so che ponteggiatura è una parola che non esiste ma credo che abbiate capito l'insieme dei ponti comunque di qua c'era un progetto che non è stato concluso ovvero il villaggio come potete immaginare dei villager questo infatti ragazzi doveva essere il progetto di un villaggio dedicato appunto a dei villageri i quali avrei portato all'interno di questo villaggio apposta per avere un sistema di trading con i villageri stessi il più vicino possibile a casa avevo costruito un insieme di casette che poi non ho continuato rendendomi appunto della lunghezza che il progetto avrebbe della lunghezza e del tempo che il progetto avrebbe richiesto lasciando appunto il progetto stare con il passare del tempo che come potete vedere è tuttavia un buon progetto qua c'è un insieme di casette a schiera alle quali non sono state completate per il motivo che vi avevo praticamente spostato adesso e qua di fianco comunque nel villaggio c'è probabilmente una delle mie strutture preferite all'interno di tutta la serie in generale anche il nuovo mondo e questa costruzione è la torre dell'orologio all'interno non può essere esplorata in quanto è un blocco solo praticamente quindi è bella soltanto vedere dall'esterno e sono molto fiero di questa torre in quanto l'avevo progettata in maniera diversa ho modificato poi il progetto mentre la costruivo ed è comunque venuta molto molto bene quindi sono fiero di questo progetto ed è un progetto soprattutto che rivedrete all'interno della nuova serie non vi dico tra quanto ma lo rivedrete qua dietro inoltre c'è l'assato della mia skin che è stato uno dei progetti che ho odiato più da fare ma che comunque si è rivelato buono alla fine in quanto mi ha richiesto veramente tantissima lana e ho dovuto farmare anche durante l'episodio in cui la costruivo il che è una cosa che detesto fare ed è per questo che sto cercando di posticipare il più possibile questo progetto che mi avete consigliato in tanti ragazzi quindi vi chiedo scusa se non lo farò breve ma odio farmare la lana molto semplicemente inoltre ultima costruzione che vedremo all'interno di questo mondo oltre vabbè alla casa delle streghe che vi mostrerò dopo c'è la casa del falegname la casa del boscaiolo più che altro questa è una delle strutture che è andata a bruciarsi con il passare del tempo a causa del fuoco che era presente nel cammino e che non mi sono reso conto era troppo vicino della legna e questo fuoco mi ha appunto distrutto tutta la casa ci sono rimasto molto molto male quando l'ho scoperto quindi diciamo che è stata abbastanza traumatica anche se non troppo da quel punto di vista come cosa mi è dispiaciuto molto soprattutto perché avevo mostrato la casa praticamente tutta costruita piano piano e quindi diciamo distrutta così è stato un pochino un dispiacere anche se poi sapete c'è sempre il ricordo e soprattutto si è vista in un video completa quindi non mi dispiace più di tanto da questa parte invece nella palude che c'era vicino alla nostra zona di casa c'è la casa delle streghe che è una delle strutture che ho costruito in un periodo di crisi tra virgolette infatti non sapevo cosa costruire fortunatamente era il periodo in cui mi avete consigliato vari progetti all'interno della serie e come potete vedere è una casa molto semplice a dire il vero che si basa appunto sulla struttura di colori molto scuri all'interno di una palude per cercare di farla sembrare rudimentale che sta cadendo a pezzi e quindi che faccia parte magari di qualche essere dedicato a magina nera e cose di questo tipo anche se adesso ho in mente nuovi progetti per le varie idee che mi avete consigliato nella zona fantasy del nuovo mondo e quindi ragazzi direi che per questo mondo è tutto ci siamo veramente divertiti tantissimo registrando all'interno di questo vecchio mondo ne abbiamo passate delle belle ma a questo punto ragazzi direi di mostrarvi in ordine cronologico come si è evoluta la serie da quel punto in poi andando quindi all'interno del nuovo mondo ragazzi questo è stato buongiorno vabbè comunque appunto come stavo dicendo questo qua è stato lo spawn della nuova stagione più che altro non nuova stagione bensì nuovo mondo all'interno della serie e come potete vedere ragazzi ci troviamo in un punto dove è praticamente costruito le ultime cose quindi mi sposterò cercando di mostrarvi le cose in ordine più o meno cronologico anche se saranno anche qui più in ordine spaziale ovvero per quanto riguarda la zona in cui mi trovo all'interno appunto della serie la prima cosa che abbiamo costruito comunque è stata la casa in stile medievale che è stata costruita in un altro mondo visto che ancora stavo cercando un mondo abbastanza buono per poter continuare la serie al meglio e questo qua poi si è rivelato il seed migliore il seed comunque ragazzi è baggato di questo mondo del vecchio purtroppo pure perché era di una vecchia versione e questo qua è stato il seed di un mondo tra due versioni comunque appena avrò un pc infatti ragazzino non ho un pc cercherò di darvi il download di entrambi i mondi quindi cercate di aver pazienza che quando avrò il pc cercherò appunto di farvegli scaricare comunque molto semplicemente questa qua è stata la prima casa che abbiamo costruito all'interno della nuova serie è stata una casa con uno stile medievale molto semplificato che è poi stata la base per un po' di tempo ed è stata una delle ultime due costruzioni fatte con uno stile medievale semplificato che è stato tra l'altro tutto lo stile per la scorsa stagione l'altra costruzione con lo stesso tipo di stile è stata la stalla che è stata la costruzione fatta praticamente davanti a questa casa ed è stata tra l'altro la seconda struttura fatta all'interno della serie la stalla ci è stata consigliata da uno dei ragazzi che mi seguo da più tempo di tutti ed è un ragazzo che si chiama Andre quindi si chiama Andrea come me ed è una stalla molto semplice che come potete vedere non è molto simile alla vecchia stalla la quale a mio parere era molto molto meglio visto anche il contrasto tra i vari colori che c'erano comunque ho intenzione di modificarla barra di farla un'altra breve sempre dando i crediti ad Andre per averci comunque consigliato l'idea di base e qua come potete vedere si apre un nuovo tipo di stile di costruzione ovvero il rustico barra rurale che è uno stile che si concentra più che altro come per esempio nella casa del fabbro e poi c'è il rustico più che altro rustico vero e proprio che si concentra più che altro sulla mia nuova casa che vi mostrerò dopo e per esempio sul ristorante e la casa degli iscritti che è esattamente la struttura di fianco a casa mia e che mi dimostrerò in questo preciso istante la casa degli iscritti è stato uno degli ultimi progetti che ho costruito all'interno di questo nuovo mondo continuerò a dire nuove vecchie serie ma intendo praticamente nuove vecchio mondo ed è stato uno dei progetti che ho fatto off camera visto che mi ha richiesto veramente tantissimo tempo comunque si basa molto semplicemente sulla vecchia struttura della casa degli iscritti ovvero con una zona dedicata interamente a voi e quindi alle vostre idee i vostri consigli che mi lasciate nei commenti con una zona però aggiunta dedicata appunto al social quindi una zona dove per esempio nel caso in cui dovessi invitare ospiti come è già successo con Captain Master all'interno della serie posso tranquillamente invitarli e far restarli al comodo mentre si parla un pochino ed è una casa quindi fatta molto molto con uno stile casuale è vero ma con uno stile comunque rustico che è lo stile che ho poi deciso di adottare per tutta la serie inoltre la casa come potete vedere ha un piccolo appoggio sul mare che secondo me ci sta molto bene visto che questa zona è sempre stata un pochino trascurata soprattutto all'interno della serie proseguendo comunque con le costruzioni qua di fianco come potete vedere ci sono la miniera che è stata la prima costruzione con uno stile rustico barra rurale rurale barra rurale ovvero che sta decadendo che è molto molto vecchio ma con uno stile basato sul rustico appunto ed è stata appunto la mia prima struttura con questo tipo di stile è una struttura a dire vero molto semplice se non per l'esterno che è un pochino più articolato ma comunque mi piace moltissimo soprattutto perché l'ho costruita basandomi sullo stile della miniera di clash of clans l'ho lasciata così abbastanza semplice non aggiungendo ulteriori dettagli in quanto si trovava in una zona che i tempi era piena di buchi infatti qua dietro non era tutto piatto era pieno di buchi che ho proprio coperto con la terra raccolta con il passare del tempo e qua di fianco invece c'è il mercato che è un'altra idea costruita con lo stile molto rustico rurale e come potete vedere questa qua è più rurale che rustico è una bancarella molto semplice che dovrà ospitare poi dei villager nel momento in cui mi deciderò di portarli visto che comunque li abbiamo trovati in un villaggio che non è nemmeno troppo lontano qua di fianco comunque è esattamente attaccato alla miniera c'è la casa del fabbro che è un'idea consigliatami dall'organ cap a un altro degli iscritti che mi segue da più tempo di tutti ed è una casa basata anche questa con uno stile abbastanza rurale questa è già più spostata con appunto dedicata a una zona per il living e una zona dedicata al lavoro che è appunto la zona del fabbro vero e proprio qua di fianco comunque c'è il portale del nether con sopra la scritta lasciate ogni speranza voi che entrate così da simulare praticamente l'ingresso dell'inferno di dante nella divina commedia ma comunque il portale per il nether è ancora da lavorare infatti la zona qua intorno dovrà essere decorata con dei dettagli del nether appunto quindi non c'è molto da dire devo ancora costruire all'interno del nether per quello direi che andremo a vedere nei prossimi episodi cosa fare comunque proseguendo sempre con le costruzioni qua c'è la farm di polli che come potete vedere è basata con uno stile rustico mantenuto molto molto bene ed è quello che sto cercando di fare adesso all'interno della serie in alcuni di voi più che altro un ragazzo in particolare mi ha consigliato di fare un villaggio rurale ed è una cosa con intenzione di fare visto che l'idea mi è piaciuta abbastanza non mi ricordo il nome del ragazzo al momento ma comunque nel momento in cui lo dovrò fare cercherò di darti i crediti quindi grazie comunque per il consiglio la farm è abbastanza semplice comunque è automatica ma non efficiente al 100% ogni tanto capita che la carne venga bruciata visto che la lava si trova molto molto vicino al luogo in cui la carne potrebbe essere droppata sfrutta un meccanismo molto semplice a quello della vecchia farm soltanto che è completamente automatica e anche ha un design a mio parere molto migliore e che può essere visto anche dall'interno soprattutto per analizzarne al meglio il funzionamento inoltre qua intorno ci sono dei dettagli estetici fatti puramente per decorare al meglio la serie e di qua c'è il pozzo che è una delle ultime costruzioni fatte all'interno della serie il pozzo dovrà ancora essere lavorato al meglio per una cosa che ho intenzione di fare in futuro ma comunque apre una piccola piazzetta che non sarà la piazza ufficiale del mondo in quanto è ancora da costruire che mi conduce in varie zone dove poi posso mostrarvi le prossime costruzioni vicino al pozzo praticamente davanti c'è la mia nuova casa che sto utilizzando come base principale che ho intenzione di utilizzare come base principale ufficiale della serie questa qua ragazzi è la mia struttura preferita in quanto è una delle case sulle quali ho passato più tempo a progettare cercando di farne una bella poi da mostrarvi in un video vero e proprio che non sarebbe stato della vanilla vedendo poi che la casa è stata apprezzata veramente tantissimo da tutti voi ho deciso di portarla anche all'interno della vanilla infatti la casa è semplicemente stata costruita nel mio mondo all'interno del quale gioco ogni tanto per rilassarmi e non per registrare all'interno della vanilla infatti è la casa mostrata nel mio mondo il segreto ed essendovi piaciuta ho poi deciso di proseguirla di non proseguirla ma vensì di rifarla all'interno della vanilla replicando nel praticamente tutti i dettagli con qualche piccola modifica che è andata a migliorare appunto la struttura della casa stessa come potete vedere ha una struttura anche questa qua basata più che altro sul rustico trattenuto molto bene infatti ci sono anche degli elementi di sandstone buongiorno signor cavallo che mi permettono di rendere la casa una struttura anche bella da vedere esteticamente e ragazzi se volete un consiglio utilizzate la sandstone nelle vostre costruzioni in quanto a mio parere è uno dei migliori blocchi per poter costruire quindi se volete un consiglio provate a utilizzare un pochino di più la redstone la sandstone nelle vostre costruzioni inoltre come nella replica della vera casa c'è un piccolo caminetto qua dietro che ad alcuni non piace ma onestamente a me piace tantissimo perché aggiunge un pochino di colore e un pochino di forma esterna alla casa stessa da quest'altra parte invece si apre la zona dove abbiamo lavorato alle costruzioni più recenti all'interno della serie ovvero per esempio la casa del blocco di erba il ristorante e la zucca anche se la zucca è stata divisa in più fasi comunque parlando del ristorante è una delle ultime costruzioni che ho fatto ed è un ristorante che deve ancora essere completato al 100% esteticamente per quanto riguarda la parte esterna è interamente completo ho anche aggiunto gli ultimi dettagli al tetto facendo l'aggiunta con le foglie dei balconcini di cose di questo tipo comunque dispone di una piccola cucina qua al piano terra che poi mi permette di accedere alla zona esterna dove poter servire il cibo in una ipotetica fase realistica se così si può dire con qua sopra un tavolo dedicato magari al buffet e dei piccoli tavolini per poter mangiare come potete vedere le mura sono ancora un pochino spogliate per questo che devo dico che devo ancora lavorare meglio all'estetica del piano interiore del piano superiore interiore della casa ma comunque anche qui il ristorante è stato uno degli ultimi progetti fatti onestamente mi piace molto per la struttura leggermente diversa che ha rispetto al resto del mondo qua di fianco invece c'è la casa all'interno del blocco di erba il quale è stato uno dei progetti che ho improvvisato all'interno della serie in quanto lo ritenevo molto semplice si è leggermente si è rivelato leggermente più difficile di quello che pensavo tuttavia non molto difficile in molti mi avete dato il consiglio di utilizzare delle finestre di legno marrone per migliorare al meglio la casa e abbiamo utilizzato delle decorazioni che seguono appunto lo stesso colore magari anche contrastante in alcuni punti per cercare di fare una casa comunque bella esteticamente da vedere dall'interno pur essendo fatta di terra che è un blocco solitamente non utilizzato per la costruzione non so se la utilizzeremo molto all'interno della serie tuttavia secondo me ci sta molto bene esteticamente e potrebbe fornire il rifugio in caso io durante la notte decidessi di provare a uccidere qualche mob che poi si rileva essere pericoloso questa qua tra l'altro sarà l'apertura per la zona fantasy che conterrà case magari simili allo stile di questa ma che conterranno anche case con lo stile rustico in quanto lo stile fantasy cercherà di seguire anche lo stile rustico stesso invece con l'ultima costruzione che vi mostrerò all'interno della serie ragazzi c'è la zucca questa zucca ha subito due fasi come vi ho detto prima per il semplice fatto che è stata inizialmente costruita ad Halloween con delle piccole radici qua intorno semplicemente per decorare e qua dentro non c'era questa lana bensì una volta la stanza qua dentro era buia e si vedeva al nero semplicemente per il fatto che era buia ma comunque con il passare del tempo sono andato a costruire una stanza qua dentro che vi ho mostrato nello scorso episodio la quale è dedicata a far spawnare dei mob i quali spawnano se si sta a dire vero abbastanza vicini alla zucca per un pochino di tempo aspettando che i mob spawnino all'interno della zucca si può poi sfruttare questa zona qua che è stata costruita appunto per sfruttare la stanza costruita all'interno della zucca che mi porterà in una zona inferiore dedicata appunto al poter far cadere i mob in questa zona qua infatti la zucca ha assunto con il passare del tempo la funzione di mob grinder in molti mi avete consigliato di trasformare la leva in un bottone cosa che farò off camera tra questo episodio e il prossimo ma comunque come funziona questa mob spawner adesso non credo che funzionerà perfettamente perché sono stato poco tempo vicino alla zucca ma comunque premendo una volta la leva su e giù taglierà una serie di circuiti d'acqua che spingerà giù i mob che ci sono nella stanza all'interno di questa zona facendogli davvero del male infatti come potete vedere è vuoto ma permettendomi comunque di potervo unshottare gli zombie o comunque qualsiasi mob che sia caduto questo qua adesso non so perché ma ci sono avuti tre colpi e permettendo così di ottenere anche l'esperienza all'incirca bisogna stare per esempio tre minuti nella sala d'attesa che è la sala che avete visto al piano superiore di questa struttura la quale mi permette cosa è successo la quale mi permette di la quale mi permette appunto di poter far spawnare i mob stando vicino alla zona stessa del mob grinder quindi stando in questo preciso istante per dieci minuti c'è la possibilità che spawnino molti mob all'interno della stanza come vi ho mostrato nello scorso episodio e poi si possono ottenere veramente veramente tanti drop e quindi anche tanta esperienza allo stesso tempo e ragazzi direi che per la serie è ufficialmente tutto so che magari ho cominciato a parlare male verso la fine dell'episodio ma comunque è semplicemente per la stanchezza e per il fatto che dopo un po' si impasta la bocca a furia di parlare ma nonostante ciò ragazzi spero che la serie vi sia piaciuta fino ad ora come è piaciuta per me grazie ai vostri consigli che mi hanno permesso di andare avanti e soprattutto grazie a tutto il vostro supporto all'interno della serie vera e propria quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto come tutta la serie fino ad ora mi raccomando fatemelo sapere con un bel mi piace che è fonte principale del vostro supporto e che oltre a supportare me la serie supporta anche il canale e ragazzi come sempre ci tengo ad augurarvi una buona giornata una buona serata e a questo punto come già detto ringraziarvi tantissimo per tutto il supporto che mi avete lasciato fino ad ora permettendomi di costruire tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora all'interno di questa serie e all'interno del canale anche se all'interno del canale non porto solo minecraft a questo punto ragazzi come già detto non mi resta altro che augurarvi una buona giornata una buona serata invitarvi ad attivare la campanellina delle iscrizioni per poter ricevere notifiche ogni volta che caricherò i nuovi video e a questo punto ragazzi spero di rivedervi nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi buona giornata